Il progetto del biodigestore di Salicetti sta facendo discutere ormai da mesi un'intera vallata. Lei ha fatto una richiesta di istituzione di una commissione consigliare provinciale per discutere della materia. Qual è stato il risultato? Ad oggi purtroppo nulla. È passato circa un mese dopo aver avuto una discussione in consiglio provinciale su un'interrogazione presentata appunto da sottoscritto in cui chiedevo come mai la provincia lo scorso anno avesse approvato un piano in cui veniva indicato Boscalino mentre ad oggi dalla regione arriva l'indicazione di Salicetti. Ho richiesto poi anche come ha fatto il consigliere Battistini in regione la convocazione di una commissione in cui vengano ascoltati tutti gli attori in causa quindi i comuni, i tecnici perché comunque credo che ci siano delle questioni che vadano affrontate a 360 gradi. Purtroppo ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta. Speriamo che con le nuove elezioni che si terranno a fine mese, il 28 luglio il nuovo presidente possa prendere in carico la richiesta. E' notizia recente che la regione abbia nominato il presidente dell'inchiesta pubblica. Come vede questa prospettiva e questa decisione della regione? Non la condivido. È una scelta ovviamente legittima però non la condivido perché credo sia più che altro uno specchietto per la lodole. Credo che l'inchiesta pubblica in realtà scarichi sul comune dei comuni, anzi di Santo Stefano e di Vezzano una responsabilità molto grande e quando invece credo che dovrebbero essere adottate delle altre procedure come ad esempio la VAS, cosa che però sembra che dalla regione non venga accolta. Grazie.